Nel Nisseno lo conoscono tutti, lui Paolo Greco, 45 anni, è un imprenditore ben inserito nel mondo della commercializzazione delle auto, anche di alta gamma. E non solo, si è occupato di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento. Oggi, però, è scattato nei suoi confronti un sequestro di beni per un valore di 3 milioni di euro. A conoscerlo bene non è solo la gente comune, ma anche le forze di polizia e le aule di tribunale. Il noto imprenditore di San Cataldo è coinvolto, secondo quanto affermano gli inquirenti, in reati come l'usura, il traffico e la cessione di sostanze stupefacenti. Non ultimo, è finito sotto la lente di ingrandimento della direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, che ha posto i sigilli alla sua concessionaria di auto e ad un negozio di abbigliamento, come anche a quattro immobili, fra cui una villa con piscina, cinque terreni e numerosi rapporti bancari. Il loro valore? 3 milioni di euro.